Il padre, ultimo step, la cerimonia finale, il padre si paria anche su queste edizioni. E nel frattempo ce la suge al centro della scena anche il capitano del mio padre, per la riconsegna ufficiale delle chiamatella città. E nel frattempo ce la suge al centro della scena anche il capitano del mio padre, al localare della ultima notte, a te committo con testa chiave, simbolo in pericuro della potestate, su tutto il territorio del Castiglione, l'oppo di pugna e dell'occa, e il suo ardore ora si plaga anche un tetto della magnitudine torta. Magnifico capitano del palio delle castelle, non bellissimi messeri e suavissime madonne, ma la presenza tua e dello popolo del Castiglione tutto, declaro un solennitane e ancora un popolo lo termine dello palio delle castelle. di questa notte settima, dello settimo mese, dello due millesimo decimo, dicesimo secondo, anno giubilare, dello terzo millennio, dell'incarnazione di Damino Nostro a Gesù Cristo. dell'incarnazione di Damino Nostro a Gesù Cristo. del Castiglione Nostro a Gesù Cristo. e che millata fuochi e allumina potesta notte, e che dimonti e proprio piano dell'incorno dello nostro bordo, vedano splendere di nuovo e proprio sempre la bella e grande Castiglione. e con queste parole dichiariamo ufficiamente chiusa la 45esima edizione del nostro palio. grazie a voi che avete partecipato e grazie alla propria del Signore Nostro a mantenere anteviva la magia e la tradizione di queste manifestazioni. Ora il palio è concluso, ma gli spettacoli no, perché manca la chiusura più bella di questa notte. lo spettacolo pirotecnico. Come si vuole, signori? Abbiamo una novità. Quest'anno lo spettacolo pirotecnico e i fuori dall'ufficio nello specifico verranno sparati da tornate. Quindi vi andremo all'incirca in quella direzione, dove sto fissando il video di ora. e sì, abbiamo cambiato la notte e i sonico non lo permetteranno qui di avere storia. Ma ecco che ci avvisano che sono pronti e quindi buono spettacolo a rimediaccia. All'anno prossimo, grazie a tutti e buonanotte.